Allora cari concittadini diamo anche oggi un aggiornamento sulla situazione che abbiamo in Campania per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus, proseguendo in questo nostro sforzo di informazione ai nostri concittadini. Innanzitutto la situazione ad oggi, ad oggi registriamo in Campania 222 casi positivi, 14 ricoverati in terapia intensiva. Nella giornata ieri abbiamo fatto 201 tamponi di cui 42 sono risultati positivi. Da ieri ad oggi siamo passati da 180 casi a 222 casi di contagi. Abbiamo attivato nella giornata di ieri altri due laboratori per fare le prove dei tamponi. Quindi oltre al laboratorio del Cotugno che lavora su due turni mattina e sera, per accelerare i tempi abbiamo attivato altri due laboratori che lavorano i tamponi in coordinamento con il Cotugno, cioè il laboratorio del Moscati di Avellino e del Ruggi d'Aragona a Salerno. Complessivamente abbiamo in isolamento domiciliare fiduciario, cioè persone che erano già messe in isolamento, 1.709 persone. 1.850 sono le autosegnalazioni o le persone che abbiamo identificato quando c'è stato questo spostamento di massa dal nord al sud. Complessivamente quindi abbiamo in isolamento domiciliare 3.559 persone che sono ovviamente monitorate e controllate quotidianamente dalle strutture delle ASL. Ora è evidente che noi abbiamo oggi una preoccupazione che è legata soprattutto agli arrivi che abbiamo registrato dal nord al sud nei giorni scorsi. Abbiamo identificato 1.850 persone o si sono autosegnalate e si sono dunque messe in isolamento domiciliare, ma sicuramente ci sono molte altre persone arrivate con mezzi propri che sono sfuggite al controllo o non si sono autosegnalate. Questa è una preoccupazione che abbiamo, nel senso che ci aspettiamo che nelle prossime due settimane noi abbiamo in Campania un picco di contagi di coronavirus. Questa è la realtà a cui dobbiamo fare fronte. Ho già illustrato il piano di emergenza che abbiamo messo a punto. Oggi abbiamo 222 positivi. Abbiamo messo a punto un piano che prevede l'intervento della sanità campana nel caso che ci siano 10 volte più contagiati. Il piano che abbiamo predisposto è tagliato su questa previsione di assoluta emergenza. Quindi noi prevediamo un incremento aggiuntivo a quello che avevamo 10 giorni fa di 490 posti letto, 102 per terapia intensiva, 85 per subterapia intensiva e 403 posti letto in più fra malattie infettive e pneumologia. A questo piano straordinario sono chiamati a dare il contributo praticamente tutte le asle e tutte le aziende. Allora partecipano a questo piano il Moscati di Avellino, l'ospedale dei Colli, Cotugno, Monaldi, Cardarelli, Asla di Salerno, soprattutto Scafati, Caserta o azienda Ruggi d'Aragona, Napoli 2 Giuliano Pozzuoli, Napoli 1 Loreto Mare, Federico II, l'Asla di Avellino, l'azienda universitaria Vambitelli, Santo Bono, Asla, azienda ospedaliere Caserta, San Pio di Benevento. Nella settimana dal 9 marzo a dopodomani noi incrementiamo rispetto a questo piano di 47 unità il numero di posti letto in terapia intensiva e 48 posti letto in subintensiva. Quindi stiamo procedendo controllando quotidianamente che questo piano di emergenza, nella previsione di un incremento di 10 volte dei contagi, sia completato entro la prossima settimana. Cioè stiamo sottoponendo ad uno sforzo straordinario le nostre strutture, ma vorremmo essere pronti con i 490 posti letto aggiuntivi dalla prossima settimana. Vi ho detto che su 222 contagiati abbiamo 14 ricoverati in terapia intensiva. Se moltiplichiamo per 10 il numero dei contagiati vi rendete conto che avremo bisogno di 140 posti letto liberi di terapia intensiva. Noi contiamo di essere pronti per la prossima settimana con questi 140 posti letto in più, anche nel caso di un contagio, 10 volte maggiore rispetto a quello che abbiamo oggi in Campania. Ora, perché questo piano riesca è essenziale la collaborazione di tutti i cittadini. E allora vediamo di affrontare ad uno ad uno i problemi concreti. Intanto vi faccio vedere questa che è una proiezione fatta da qui al 15 aprile dall'ospedale Cotugno, dal direttore sanitario del Cotugno. Prevediamo tre scenari, quello normale, quello di emergenza e lo scenario pesante grave. Calcolando sullo scenario più grave noi avremo bisogno entro il 14 aprile dei posti letto che vi ho detto. Poi dal 14 aprile si prevede una curva discendente dei contagi. Torniamo a noi. Questo piano deve essere sostenuto dai cittadini. Vi è un'ordinanza che prevede che non si possa circolare liberamente per le strade se non per motivi di urgenza. andare a fare la spesa, i padroni dei cani, sono codificate. Quello che è vietato è passeggiare. Qui noi abbiamo avuto una comunicazione estremamente confusa anche da parte di organi del governo nazionale. L'ordinanza nazionale prevede che chi non si adegua all'ordinanza, cioè chi va in giro senza motivi di urgenza e senza motivo, è passibile di tre mesi di carcere e di un'ammenda fino a 200 euro. Queste misure non vengono ancora messe in atto dalle forze di polizia, dalle forze di polizia municipale. Anzi, abbiamo sentito qualche comunicazione che è arrivata da Roma ma assolutamente sbagliata, perfino Ministero dell'Interno. E cioè si può passeggiare purché si mantenga un metro di distanza. Questa è un'idiozia. Non si può camminare per strada senza ragione motivata da parte del cittadino. Allora, noi cercheremo di prendere qualche misura in più. Sto preparando un'ordinanza che non solo ribadisce che è vietato camminare per strada senza motivo di urgenza, o sanitario o approvvigionamento alimentare o, ripeto, proprietario di cani e quant'altro. Costringeremo tutte le persone individuate a circolare senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni. Cioè ti trovo in mezzo alla strada, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, quindi in condizioni che chiaramente non segnalano emergenze, ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. E ovviamente una volta che c'è l'obbligo di quarantena è chiaro che se viene individuato fuori di casa sei passibile di sanzioni penali anche gravi. Siamo costretti purtroppo a fare questo lavoro. Perché c'è il 90% dei cittadini che ha capito che la situazione è seria. C'è un 10% di irresponsabili che devono essere neutralizzati e messi in condizione di non nuocere. Inviteremo anche il governo a dare comunicazioni coerenti, serie. Ma come è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub, poi è possibile passeggiare. Vi do una notizia che può essere utile. Abbiamo chiesto all'infettivologo che fa parte della task force regionale una cosa che c'era stata domandata da qualche cittadino e cioè l'emissione di fumo da parte dei fumatori, la nuvola di fumo che emette il fumatore, trasporta il virus sì o no? Risposta assolutamente sì. Cioè tu cammini per strada, ti incroci anche a distanza con uno che sta fumando, quella nuvola di fumo trasporta il virus. Cioè le occasioni di contagio sono mille. Allora il piano di contenimento del contagio regge se limitiamo al massimo tutte le occasioni di contagio. Ho dovuto fare un'altra ordinanza più rigorosa di quella nazionale. Chiudiamo i ristoranti, chiudiamo le pizzerie alle 18 di sera, possiamo fare il trasporto di pizze da sport in Campania? No, stiamo parlando di 15 giorni di tempo, 15 giorni. Stiamoci fermi perché se trasporto la pizza a casa di un qualunque cittadino, devo tenere comunque aperta la pizzeria, ci sono i dipendenti che sono a rischio, stabilisco un contatto con la famiglia. Allora abbiamo autorizzato in Campania solo il trasporto a domicilio di cibi preconfezionati e con trasportatori dotati di mascherina. Poi se ci sono persone anziane isolate è compito dei comuni e dei piani sociali di zona individuare queste persone che dovrebbero essere già state individuate per la verità e provvedere con il banco alimentare, con il volontariato o, se non c'è soluzione, possono segnalare alla Regione, ma i problemi vanno affrontati così. Cioè quando si fa un'ordinanza si deve risolvere il 90% delle questioni, non si può comprendere anche il problema singolo di dettaglio. In ogni caso, per quanto riguarda cittadini isolati è responsabilità dei piani sociali di zona garantire anche le forniture alimentari. Ma per il resto massimo rigore. Ci sono negozi, attività commerciali che hanno insieme le tabaccherie e i bar. I bar in Campania devono essere chiusi, si vendono i tabacchi. Abbiamo situazioni per cui sulle autostrade vi sono gli autogrill, i motel che hanno distribuzione di carburanti, ma bar. I bar devono essere chiusi, ma devono essere garantiti i servizi igienici. Si può fare un'eccezione solo se i servizi igienici sono dentro l'attività commerciale. Quindi va garantita la fornitura ai carburanti e l'apertura dei servizi igienici. Se i servizi igienici sono lontano, fuori del bar, possono funzionare a soli e il bar va chiuso. Allora, prendo questi esempi per dire che poi noi possiamo regolare con le ordinanze il 999% dei problemi, ma poi deve essere messo in funzione il cervello della gente. A volte sembra di avere a che fare con persone che sembrano ragazzini a prima comunione. Il cervello, la testa, serve non solo per dividere le orecchie, ma anche per connettere i neuroni, cioè per far funzionare la mente. Allora, quando abbiamo dato le indicazioni generali, ognuno si può anche attivare per fare le cose giuste, da solo, senza aspettare qualcuno che dia la lezione la mattina. Ho mandato anche una richiesta alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri interessati, perché ci sia nei territori la presenza dell'esercito. I quartieri vanno militarizzati nel senso normale, cioè avere l'utilizzo anche delle forze, oltre che delle forze dell'ordine, che devono fare le multe e ci devono segnalare quelli che vengono multati, in maniera tale che li mettiamo in quarantena, ma anche, come dire, reparti dell'esercito, attrezzati, protetti, che servono a scoraggiare la mobilità non necessaria, non consentita. Allora, se dobbiamo fare questo sforzo per contenere il contagio, non possiamo più essere l'Italia del mezzo-mezzo e del fare finta. Noi siamo tradizionalmente un Paese che non decide mai una cosa fino in fondo e non fa mai le verifiche sui risultati delle cose decise. Mezzo-mezzo e fare finta. Se diciamo, devi stare a un metro di distanza e poi verifichi, come è capitato lo scorso fine settimana, che nei pub i ragazzi stanno uno addosso all'altro. Prendiamone atto, prendiamone atto e prendiamo decisioni che abbiano poi conseguenze reali, non decisioni che rimangono sulla carta. Allora, alcuni problemi in singoli. Primo, noi abbiamo rinviato gli interventi chirurgici non necessari. Questo per non sovraccaricare gli ospedali, per non avere un consumo di sangue eccessivo in un momento nel quale abbiamo carenza nella dotazione di sangue. In Campania abbiamo bisogno ogni giorno di trasfusioni di sangue per 1800 pazienti e abbiamo una riduzione delle scorte di sangue. Allora io ripeto l'appello alla donazione di sangue che faccio alle associazioni ai singoli cittadini. Quando ho segnalato la carenza di sangue all'ospedale Santo Bono abbiamo avuto una risposta splendida. Decine di persone si sono presentate a fare la donazione di sangue. Non c'è problema, non c'è promiscuità di accesso negli ospedali. I percorsi sono assolutamente garantiti e tranquilli. Quindi vi invito davvero calorosamente a riprendere le donazioni di sangue e ringrazio quelli che ci hanno già dato una mano straordinaria. Allora, gli interventi chirurgici non necessari, rinviabili da qui a un mese, vanno rinviati. Non bisogna affollare i distretti sanitari, salvo che per cose di una qualche urgenza. Qui dateci una mano. Centri di riabilitazione. Abbiamo ragionato per mezza giornata sul problema che riguarda i centri di riabilitazione. Intanto noi abbiamo già stabilito che vengono prorogate le prestazioni che sono state autorizzate per chi ha bisogno di riabilitazione. Quindi non andate più nelle ASL per chiedere il rinnovo di queste prestazioni. Sono prorogate automaticamente per tre mesi. C'è un problema che riguarda i centri di riabilitazione, cioè il 70-80% delle famiglie non va nei centri di riabilitazione. C'è un problema che riguarda il personale, che rimane appeso, dovrebbe essere messo in cassa integrazione. L'idea che abbiamo noi è questa. I centri non possono essere chiusi, perché ci sono prestazioni urgenti, indifferibili, che vanno erogate. Non possiamo chiudere, però non possiamo non tener conto del fatto che il lavoro si è ridotto. La nostra idea è questa. Mettiamo in piedi un meccanismo semplice, non ci complichiamo la vita. I responsabili dei centri di riabilitazione decidano autonomamente quali sono le prestazioni urgenti. Questo è uno dei casi nei quali far funzionare il cervello in maniera responsabile, perché non è codificabile tutto. Dopodiché certifichino la riduzione di lavoro che c'è stata e noi approveremo questa riduzione e quindi consenteremo anche ai centri di riabilitazione e di avere l'aiuto economico anche per i dipendenti che dovessero essere messi in cassa integrazione. Trasporti. Abbiamo deciso di ridurre di quasi il 50% dei trasporti, sia perché è diminuita la domanda, la gente sta a casa, sia perché obiettivamente, se dobbiamo fare uno sforzo per contenere il contagio, limitare il trasporto, quindi i mezzi affollati, da una mano ad evitare la diffusione del contagio. Ovviamente 50% in meno per il trasporto terrestre. Cercheremo di agevolare il trasporto nelle periferie, garantiremo il trasporto per fasce orarie per pendolari e per i dipendenti della sanità. È un provvedimento che abbiamo preso discutendo sia con le aziende di trasporto, con le organizzazioni sindacali, con le strutture sanitarie. Abbiamo per esempio al Cartarelli una quantità rilevante di personale che deve andare in ospedale, quindi garantiremo il trasporto pubblico per gli ospedali e garantiamo tre corse di andata e tre di ritorno. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, distinguiamo il trasporto veloce, quello per i cittadini ormali, dal trasporto rorò, come è chiamato, quello che serve sia ai passeggeri sia il trasporto di mezzi dentro la nave. E quindi abbiamo regolamentato, ma insomma troverete le ordinanze pubblicate in maniera chiara. C'è un problema che riguarda Capodichino. Gesac ci chiede la chiusura di Capodichino, salvo che per trasporto di materiale sanitario, trasporti urgenti e trasporti cargo, cioè merci, agroalimentare e quant'altro. Il Ministero dei Trasporti ha chiuso, credo, forse mi pare 11 o 17 aeroporti. Ci dicono da Capodichino che in pratica non viaggia più nessuno, a volte abbiamo aerei con un passeggero. Credo che sia giusto porre all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture anche la richiesta che viene da Capodichino. Riduciamo anche in questo caso perché sono costi davvero spaventosi per l'azienda, ma assolutamente inutile il servizio. Allora manteniamo un servizio urgente, ma limitiamo tutto il resto e lo eliminiamo. Affronteremo nelle prossime ore due altri problemi a cui non è stata posta attenzione. Campi Rom sono assolutamente senza vigilanza. Qui chiederemmo, oltre che ai servizi sociali dei comuni, per quello che riescono a fare, soprattutto alle forze dell'ordine, alle prefetture, di fare una ricognizione e un censimento attento del problema. Ma questo è un problema, perché nessuno controlla niente lì. Così come non ci sono controlli nei centri di accoglienza per i migrati. Allora anche qui bisogna mettere in piedi qualche misura. È un tema che stiamo appena affrontando in queste ore, ma che va posto all'attenzione degli organi dello Stato. Forniture. Voi sapete che c'è? C'è un problema enorme che riguarda le forniture. In modo particolare le forniture di materiale medico, mascherine di due tipi, le mascherine ordinarie per i cittadini, per chi vive a fare la spesa, per chi lavora nelle aziende e mascherine chirurgiche che sono ovviamente più sofisticate. C'è una carenza drammatica di forniture di mascherine. La Napoli 1 aveva fatto una fornitura direttamente come Napoli 1 in Turchia, la Napoli 2 direttamente con il proprio fornitore per altre 70.000 mascherine. In questo momento c'è una situazione di emergenza internazionale. La Turchia ha bloccato alle frontiere sia le forniture CONSIP, cioè quelle centralizzate, sia le forniture che doveva garantire alla nostra ASL di Napoli Centro. Stiamo lavorando in queste ore con l'ambasciata italiana in Turchia per sbloccare sia queste forniture, quelle centrali, sia le nostre. Qual è il problema? Che ci sono stati i primi casi di contagio anche in Turchia e quindi, come era immaginabile, hanno bloccato tutto. Noi contiamo nella giornata di oggi di sbloccare quella fornitura. Per quanto riguarda la Napoli 2, la Napoli 2 si fornisce dall'azienda Ambra con forniture dirette. Aveva ordinato 70.000 mascherine. È stato bloccato un carico dalle forze dell'ordine, credo dalla protezione civile. Stiamo approfondendo il problema in queste ore. Qui dobbiamo capirci. Le forniture che strappiamo sul mercato, al di là di quelle centralizzate, devono essere garantite. Nessuno ci deve dare fastidio? Non è tollerabile che se noi con una nostra ASL reperiamo sul mercato, in Italia o nel mondo, le mascherine ci vengono poi bloccate o sequestrate. Non può funzionare così. Chiaro? Allora facciamo una premessa di carattere generale. La Campania è stata la prima regione a dare disponibilità di posti letto in terapia intensiva, non per i malati Covid, ma per i politraumatizzati, per liberare posti a favore della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto. Ci siamo mossi con grande senso dello Stato, con uno spirito di solidarietà verso i nostri concittadini di altre regioni. Questo non può significare essere presi in giro. Vi do un altro dato perché sia chiaro che cosa sta facendo la Campania e perché sia chiaro ai nostri concittadini che cosa significa la mia espressione, mi avrete sentito altre volte dirlo, stiamo facendo miracoli. Due o tre giorni fa si è riunita la Commissione Nazionale Salute per decidere il riparto fra le regioni dei fondi del Fondo Sanitario Nazionale. La Campania quest'anno riceve 171 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. 171 milioni in più perché siamo usciti dal commissariamento, perché abbiamo avuto gran parte dei fondi della premialità, anche perché abbiamo quasi raddoppiato la griglia dei livelli essenziali di assistenza. Quindi abbiamo avuto 171 milioni in più grazie ai sacrifici che abbiamo fatto noi in Campania. Nonostante questo incremento di 171 milioni, la situazione rimane questa. La Campania continua ad essere l'ultima regione d'Italia per i trasferimenti sanitari. Ad oggi, cioè nonostante questo incremento, noi abbiamo 46 euro in meno rispetto rispetto alla media nazionale. La media nazionale è di 1878 euro a cittadino. In Campania arrivano 1832 euro, 46 euro in meno per ogni abitante della Campania. Per quanto riguarda i rapporti con le altre regioni, ad oggi con questo riparto la Campania riceve 45 euro pro capite in meno rispetto al Veneto, 39 euro in meno rispetto alla Lombardia, 60 euro in meno rispetto all'Emilia, 30 euro in meno pro capite. Noi non abbiamo posto problemi. Abbiamo accettato di non porre problemi quest'anno nonostante lo squilibrio permanente. Cioè nonostante il fatto che pur avendo recuperato 171 milioni di euro grazie ai nostri sacrifici, tuttavia subiamo uno squilibrio che è intollerabile. Lo tolleriamo scegliendo di tacere quest'anno per essere ancora la regione della solidarietà, della responsabilità, della fraternità nei confronti di cittadini italiani che stanno peggio di noi. Ma sia chiaro a tutti questo, che già la regione Campania sta facendo atti di generosità che non so quante altre regioni avrebbero fatto. Allora se a questa generosità e disponibilità si aggiunge il fatto che poi arriva un camion che porta le mascherine che ha ordinato una nostra ASD e ce lo bloccano, allora no. Allora vuol dire che non ci siamo capiti. E in questo caso davvero facciamo la guerra. Perché noi siamo rigorosi e seri e generosi. Ma questo atteggiamento deve valere per tutti. Altrimenti il sistema non funziona. Ci tenevo a spiegare il quadro e il contesto. Intanto perché ogni cittadino campano ha il diritto di sentirsi orgoglioso per quello che stiamo facendo. Ma poi per dire anche ai vertici nazionali che oggi non era il caso di parlare. Va bene così. Silenzio assoluto e diamo una mano a tutti quanti. Ma nessuno pensi di continuare quando avremo risolto l'emergenza come se niente fosse. Perché questo non lo consentiremo. Allora finisco con qualche buona notizia almeno. Mania tale che non ci angosciamo. Vi devo ripetere che se facciamo tutti quanti il nostro dovere la situazione è dura e difficile. non c'è da fare autoconsolazione. Ma siamo assolutamente in grado di governarla. E siamo assolutamente in grado di risolvere i problemi. Vi ho fatto vedere il grafico che ci è stato elaborato dal Cotugno. Si prevede che in Campania il picco di contagi sarà a metà aprile. avremo bisogno per quel periodo di 150 posti letto in terapia intensiva. Siamo assolutamente pronti ad affrontare quell'emergenza. Non c'è problema. Stiamo assolutamente tranquilli. Poi la curva del contagio è destinata a scendere. Notizie positive. La Cina un miliardo e mezzo di cristiani. Un miliardo e mezzo. Nella giornata di ieri ha registrato otto contagi. Otto. Nella provincia di Bergamo credo 220 contagi in più. La Cina sta uscendo dalla epidemia. Allora, noi dobbiamo reggere per un mese e mezzo o due mesi, se facciamo tutti quanti il nostro dovere. E se sarà così, vi posso garantire che non avremo in Campania, nonostante il fatto che dobbiamo combattere a volte con le mani nude, dal punto di vista finanziario, non succederà in Campania, che un medico sarà costretto ad affrontare da solo l'alternativa su chi deve vivere e chi deve morire. Perché in qualche realtà del Nord siamo a questo livello. Che siccome non ci sono più posti in terapia intensiva, bisogna decidere se ricoverare una persona anziana che non ce la fa più a respirare, o un altro cittadino che ha un trauma cranico e deve andare in terapia intensiva. Qui non succederà. Se tutti quanti fanno il proprio dovere e ci danno una mano. Allora, in Cina si sta uscendo. Ovviamente vi devo dire che in Cina avevano anche dei metodi educativi, pedagogici di diversa efficacia rispetto all'Europa. In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla zona che era in quarantena, si era buttato con la macchina, aveva travolto anche le forze dell'ordine, facevano il blocco stradale e quant'altro. 23 anni, è stato fucilato. Ora, nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Esiste la coscienza, il senso di responsabilità, purché la coscienza sia fatta valere e utilizzata. La Cina sta uscendo dall'epidemia. Secondo, noi stiamo utilizzando un farmaco che è stato sperimentato in Campania in rapporto fra ospedale Pascale, ospedale oncologico e ospedale dei Colli. Si è scoperto, insomma la verifica l'ha fatto il dottore Ascirto insieme con altri suoi colleghi, che un farmaco che veniva utilizzato contro l'artrite aveva un'efficacia, ve la dico in in maniera molto banale, semplice, un'efficacia nel bloccare i processi di infezione polmonare. Questo farmaco viene sperimentato da, credo da qualche giorno, da qualche settimana, da qualche giorno anche su malati di coronavirus, con risultati molto importanti. Ho visto la relazione che hanno fatto a Modena dopo aver utilizzato su pazienti gravi di coronavirus e il risultato è stato straordinario, nel senso che l'infezione polmonare è rientrata anche su qualche paziente gravissimo. Ora, per l'amor di Dio, grande prudenza. Dipende anche da paziente a paziente, da come reagisce l'organismo. Ma fra le notizie positive c'è anche questa, che si stanno producendo dei farmaci che cominciano a mostrare una grande efficacia terapeutica, il che significa che si può guardare con una relativa fiducia anche alle prossime settimane. Tenete sempre conto del fatto che la metà dei contagiati è asintomatico, cioè sta tranquillamente a casa, è positivo, non deve andare in giro perché il contagio lo trasmettono anche quelli che non hanno tosse, difficoltà respiratoria, però la metà non ha grandi sintomi, grandi patologie e anche fra quelli che vengono ricoverati hanno bisogno della terapia intensiva, hanno bisogno di essere intubati non più del 6-7%, ma a maggior ragione se si rivelano efficaci anche i nuovi farmaci, io credo che possiamo guardare con serenità al futuro. Sono pochi ancora i ragazzi infettati, contagiati, questa è una buona notizia. Cominciano ad esserci molte donazioni, voglio ringraziare Lorenzo Insigne, c'è stata una donazione da parte sua ai 100 mila Euro, abbiamo l'ANICAP che ha fatto donazioni, altre società, altre aziende, ringrazio tutti quanti di cuore perché sono gesti di grande sensibilità e di grande civiltà che ci aiutano e ci fanno bene, ovviamente. A proposito di buone notizie, va rilevato anche che le donne incinte colpite dal coronavirus sono ridotte a una unità, voi sapete che noi abbiamo aperto un reparto al secondo policlinico di quattro posti letto destinato soltanto a donne incinte e contagiate, ne abbiamo solo una, quindi da questo punto di vista va molto bene. Per il resto vorrei suggerire soprattutto ai ragazzi, alle ragazze, ci saranno ore di noia a casa. C'era un grande Papa, Giovanni Paolo II che aveva una grande capacità di parlare ai giovani, che ci invitava, invitava tutti quanti a riscoprire la dimensione del silenzio. Avrete visto anche voi che abbiamo riscoperto anche il silenzio, a volte non si sente nessun rumore. Giovanni Paolo II invitava a riscoprire questa come una dimensione irrinunciabile nella natura umana, il silenzio. Riscopriamo questa dimensione. E poi sempre per i più giovani utilizziamo queste serate a casa per fare qualche lettura non pesante ma molto interessante, almeno dal mio punto di vista. Leggetevi una pagina del Vangelo secondo Matteo, il discorso della montagna, è una pagina, è il fondamento dell'umanesimo cristiano e occidentale. Leggetevi, li troverete credo sul vostro computer, se questo è un uomo di primo Levi, anche per dare la proporzione giusta anche a questa epidemia che stiamo vivendo, a questa sofferenza che tocca ognuno di noi, se questo è un uomo. E poi c'è un'altra cosa bella, anche qui non pesantissima, che è l'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, una riflessione straordinaria sul rapporto fra i valori, i principi e il potere. Troverete cose straordinarie e troverete anche l'affermazione secondo la quale essere cristiani non è un modo di dire, ma un modo di vivere. Anche quest'obbligo di permanenza a casa può diventare una grande occasione per fare cose belle, per arricchirsi. Un'ultimissima notizia, in queste ore stiamo cercando di individuare delle aziende che producono tessuto o non tessuto. Credo che in Veneto, mi dicono anche in Toscana, le università hanno certificato l'efficacia come mascherine ordinarie, di mascherine prodotte con tessuto o non tessuto, con uno strato triplo. Siccome il tessuto o non tessuto è un materiale anche abbastanza rigido, vengono prodotte, credo, in queste ore in Veneto, mascherine che non richiedono neanche gli elastici, ma possono prevedere un taglio verticale per l'aggancio con le orecchie. Stiamo cercando di trovare di tutto sulla faccia della terra per ovviare a questa maledetta carenza di mascherie. Non ho notizie ulteriori a darvi, ma mi interessava dirvi che stiamo cercando di intercettare anche produttori di tessuto o non tessuto, perché se li troviamo anche in Campania, credo che risolviamo il problema delle mascherine ordinarie per quelle chirurgiche, lo ripeto, occorre un materiale più sofisticato e quindi cerchiamo di procurarcele in aziende specializzate. Questa è la situazione della Campania ad oggi. Il lavoro va avanti, la progressione del contagio, vi ho detto quello che è successo da ieri a oggi, più 42 contagiati, siamo a 222, 14 terapie intensive. Se la progressione del contagio rimane questa, il problema è assolutamente governabile. Ho spiegato a qualche ministro perché la Campania deve essere considerata una priorità. La priorità assoluta è la Lombardia, nessun dubbio. Ma ho spiegato a qualche nostro interlocutore che la Campania ha alcuni territori che sono i più densamente popolati d'Europa. Tutta l'area metropolitana campana è l'area più densamente popolata d'Europa. Il motivo per cui stiamo buttando il sangue per tenere sotto controllo il problema è questo. In Campania non ci possiamo consentire il lusso di una esplosione di contagio. E non aggiungo altro. Ho solo spiegato a qualche interlocutore romano che cos'è la Campania. E questo dovrebbe convincere tutti quanti che c'è bisogno di un'attenzione in più per la nostra regione. Allora, il lavoro è pienamente in corso. Abbiamo motivo di preoccupazione tutti quanti. Abbiamo tutti quanti il dovere della responsabilità. Ma abbiamo anche una condizione che ci consente di avere serenità. Perché il lavoro è pienamente in corso. La situazione rimane sotto controllo e rimarrà sotto controllo se facciamo tutti le persone responsabili. Ci aspettiamo questo picco di contagio in relazione a quelli che sono arrivati a migliaia dal nord nel sud. Ma anche quel picco riusciremo a controllarlo se abbiamo tutti senso di responsabilità. Allora, il nostro stato d'animo è questo. Siamo tutti motivatissimi. Siamo impegnati all'ultimo respiro. Ringrazio di tutto cuore i medici, gli infermieri, il personale viaggiante, tutti quelli che fanno il proprio dovere, avendo capito che siamo in guerra. E in guerra non sono tollerabili. Ne atti di disinvoltura, ne combatterie, né irresponsabilità, né meno che mai diserzione. Dobbiamo combattere. Ce la facciamo tranquillamente a governare questo problema. Vi chiedo solo un aiuto semplice. La responsabilità, la coscienza personale e poi quel tanto di solidarietà che è necessario avere nei momenti difficili. Per le persone sole, per le persone anziane, per i disabili, per quelli che non ce la fanno, deve scattare anche un movimento di solidarietà, di aiuto, di fraternità. Io sono convinto che queste risorse morali ce le abbiamo tutti quanti nel fondo dell'anima. Bisogna tirarle fuori e così ce la faremo tranquillamente. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie. Grazie.